ok cima del cavallo l'ho fatto ma facciamoci sempre la non ti cazzo i cavalli mancano qua manca ancora un pietta forma giusta ok quello fatto ok fermo la lavada gioco giusta l'honnevo ok Ok, cavallo, ah niente l'asta, cavallo l'ho fatto e l'asta anche mi sa, si, quindi soltanto questo, quest'asta qua mi vanno. Poi vedo effettivamente sopporto, di cavallo tutto l'errore, ah no, 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 ok, quella sta lì no, ok, allora vediamo un attimino. Anello, bordo, soffitto, anello, pilastro, anello, pilastro centrale, ah quello, eh ma perché devo salir sopra, devo salir sopra qualcosa, a cola. Una salta di cavallo in cavallo, no, ho capito. Ok, anello, pulizia centrale, sono questo. Su quel bordo, tipo. Che perfettivamente questo lo posso fare dal basso, perché basta che giro con i cavalli. Fermo. Traveso sì. Ok. 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 Tutto tutto. Mi dico qua. Lecook. Lecook. Abbiamo travi soffitto. Fili qua l'ho fatto. Ok. Ho trovato. Lecook. Ok, ok, ok. Ok Cimapilastro Qual è Cimapilastro questo? Anch'io avevo Fermo No vabbè questo qua che gira posso farlo io Tranquillamente Devo andare dritto di qua Questo l'ho fatto Perché era sporco lì? Non lo so 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 Finito finito Non lo so 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 Faccio Non lo so Non lo so Ok Non lo so Non lo so fa pannello friggio ok mancano sempre 3 credi che qua ok questo dentro l'ho fatto, questo dentro l'ho fatto e questo sotto l'ho fatto ok ok oh ci sono degli ignomi, fermo, posso prendere posizionare, l'abbiamo di tutti, ok ho finito ma che è passato pure il tempo, si è visto le nuvole che passano, non fa tempo ok ho fatto tutto, perchè sto volando lì? la giostra è spettacolare, gli altri sbloccheranno quando la vedranno, sento già l'odore delle palate di soldi che guadagneremo, grazie mille prego ok